E' arrivata un po' di influenza, non grandi cose, ma insomma, un minimo in una stagione ci vuole. Quindi non so se riuscirò a leggere stamattina. In alternativa posso sempre cercare di fare due chiacchiere con voi, ormai nel solito modo, lasciando fluire il pensiero libero. E' forse la cosa che più mi funziona, insomma. Non sono mai riuscito a farmi uno schema e dire quelle cose all'interno di uno schema. Mi ricordo che quando anche facevo la scuola per le infermiere professionali, insomma, anche lì avevo due classi e non riuscivo mai a prepararmi la lezione. Mi capitava spesso in queste due classi che gli facessi lezioni diverse. Mi sarebbe stato molto più semplice fare la lezione da una parte e poi ripetere la lezione nell'altra. No, hanno due classi che facevano, sì, nel secondo anno, tutte e due, insomma, in cui si fa neurologia. O si faceva ai tempi quando la scuola per i infermiere professionali era gestita non tanto dall'università, ma era fatta all'interno delle strutture ospedalieri più grandi. Mi capitava poi di fare sempre lezioni diverse, tutto sommato. Per esempio, magari a volte non mi ricordavo cosa ho fatto da una parte e cosa ho fatto dall'altra. Proprio per la difficoltà di concentrare il pensiero, insomma, quello che volevo dire, in maniera fissa, schematica, che è un limite, capisco, insomma, è un limite. Ma ogni volta, insomma, c'è qualcosa che prevale e che ti porta ad allontanarti. L'importante, magari, nel caso delle riflessioni così che si fanno, è quello di, a un certo punto, riprendere il filo e si lascia il sospeso qualcosa di riuscire a ritornarci sopra. Allora, da dove cominciare? Cominciamo dal fatto che, per esempio, non so, qualche giorno fa andavo a passeggiare, era una bella giornata serena, e c'era il sole, non c'era una nuvola, qui intorno ci sono dei prati. E allora si passeggiava, non c'era una nuvola, non c'era un certo punto, è arrivata una cosa strana, è arrivato una specie di mulinello di vento, improvviso, così, nella calma, nel sereno, è arrivato un mulinello di vento, che ha fatto girare, c'erano ancora delle vecchie foglie per terra, insomma, c'era, insomma, ha fatto girare tutto quello che c'era per terra, è durato alcuni, alcuni secondi, meno di un minuto, forse, e poi tutto è ripreso nella calma. Ma è stata una cosa, un fenomeno abbastanza, non dico violento, insomma, ma abbastanza, si notava, insomma, insomma, mi ha lasciato perplesso un fenomeno di questo tipo, che strano, mi sono detto, non mi era capitato di vederlo, no? Come quando, non so, come quando piove e non c'è quasi una nuvola in cielo, insomma, però qualcosina c'è, insomma, no? La pioggia col sole, quando ero piccolo piccolo si diceva che, si diceva che quando piove c'è il sole, è la strega che si pettina, nella fabola, quando ero piccolo piccolo. E' quindi un fenomeno di questo tipo, una cosa improvvisa e strana che subito si risolve, è una cosa improvvisa e strana che anche mi è capitata qualche giorno fa, qui, dove pre-commenti, insomma, che di solito sono, ripeto, gratificanti, insomma, fatti dei bellissimi commenti, complimenti per i commenti. Ne erano capitati ancora un paio, ritorno magari su queste chiave, perché mi dà spunto a una riflessione, quindi, insomma, scusatemi se lo faccio, non è che mi toccano più di tanto, però mi fanno pensare. Uno di questi commenti, diciamo, tolto qualche parola di insulto all'inizio, però terminava così. Ammazzati, brutto, vecchio, inutile, una cosa del genere, insomma, queste erano le parole, insomma, tre parole mi sono rimaste impresse, insomma, ammazzati, vecchio, vabbè, vecchio, lo so, non è questa, ma inutile. E soprattutto sul termine inutile mi è venuto da pensare, perché allora mi sono detto, mi sono detto, e quando siamo inutili? E cosa vuol dire essere inutili nella nostra vita? Cioè, quando la nostra vita è inutile. E se ci pensate anche voi, non è un problema da poco. Insomma, dovremmo meditare sul senso, ma non sul senso che noi soli vogliamo dare alla nostra vita, no? Perché per noi la nostra vita potrebbe avere un senso pur non giovando a nessun altro. Ma nel senso che anche la nostra vita deve avere per gli altri. Perché allora l'utilità si dovrebbe rivolgere a quello che si fa o non si fa per gli altri. Ma allora viene il problema di capire chi sono gli altri. Sono gli altri, sono gli altri, sono gli altri, sono tutti il genere umano, oppure tutto quello che sta in natura. Mi viene in mente un racconto, in questo momento non ci avevo pensato. L'uomo che faceva crescere gli alberi, una cosa del genere si chiamava, l'avevo anche postato. Questo qui aveva, diciamo, creato una specie di foresta e questa cosa, come dire, aveva avuto poi la sua utilità. Insomma, no. Quindi si può essere utile anche perché ci si rivolge o ci fa qualcosa non solo nei confronti degli uomini, ma anche nei confronti delle piante, per esempio. Insomma, gli altri esseri, tra virgolette, viventi. No, anche senza virgolette. Tra altri esseri viventi. Perché anche le piante sono natura. E quindi, insomma, quando la nostra vita è inutile, si può dire a qualcuno che la sua vita è inutile? Per quanto basso sia il suo stato vitale, per quanto bassa questa persona sia nella scala sociale, supponiamo, no? Per quanto vecchia, malata sia, si può dire a qualcuno che è inutile. Questo lo dico perché forse vale la pena ragionare sulle parole che usiamo. Non pensiamo più le parole, ma questo lo sapete, è inutile che lo dica. Insomma, le parole sono diventate fumo, vento. Ma rispetto a un uomo, perché allora viene da pensare la vita di un bambino che è tutto dipendente e che abbandonato a se stesso morirebbe, un bambino piccolo, insomma, no? Che non fosse accudito, allattato, è inutile? Voi tutti mi direte di no, no? E la vita di un vecchio può essere inutile? Voglio dire, e chi lo dice? E come facciamo a dirlo? Perché allora viene in mente che il vecchio non è una condizione in cui uno nasce vecchio, insomma, no? Uno vecchio lo diventa, insomma. E allora c'è tutto il passato alle spalle da analizzare. E se uno è diventato vecchio è nella sua vita, diciamo, ha fatto delle cose. Nel momento in cui diventa vecchio è inutile. Cioè tutto il suo passato lo possiamo dimenticare, lo possiamo sascondere, lo possiamo censurare. Oppure è il complesso della vita che dobbiamo guardare. E quindi dire ad uno che si trova in una determinata fase della vita, insomma, nella vecchiaia, che la sua vita è stata inutile, è una cosa che non si può fare se non si prende in esame tutto l'insieme. Ma anche prendendo in esame tutto l'insieme. Quando? Quando potremmo dire che l'intera vita, e quindi la condizione in cui adesso noi lo vediamo, insomma, il momento di questa vita in cui lo consideriamo, insomma, in cui guardiamo a questa persona, possiamo dirgli che è inutile. E chi possiamo essere per giudicare l'altro e dirgli che è inutile? Perché se glielo diciamo dobbiamo riflettere sulla nostra vita e dire che la nostra vita invece è una vita utile per dire all'altro che la sua vita è inutile, insomma. E quando noi ci possiamo sentire effettivamente in questa dimensione? Quando possiamo avere la piena consapevolezza della utilità della nostra vita per poter giudicare l'inutilità della vita di un altro? Sono belle domande. Insomma, non è solo il senso, altra questione che a me poi è cara, insomma, non è quello del senso da dare alla vita, alla dimensione vita, ma è ancora più vasta, insomma, no? Quando la vita è utile. Beh, la prima cosa che mi viene da pensare, prima di approfondire ancora un po' di più queste cose che ho anticipato, era quella di capire perché si possono dire di queste parole o di queste cose. ammazzati, no? Dire a qualcuno ammazzati. Beh, vecchio è una constatazione, insomma, no? Su questo ma forse era detto anche in maniera dispregiativa, vecchiaccio, qualcosa del genere, no? È inutile. Il contesto è il momento, no? Ho richiamato questo evento atmosferico, insomma, no? Questo vortice di vento improvviso che poi si è esaurito, per dire che era un evento che si è verificato senza nessuno, inaspettato, insomma, no? Questo evento improvviso è inaspettato. Perché? Perché non c'era nessun contesto atmosferico in cui questo vortice di vento si verificasse, no? No, abbiamo questa mini tromba d'aria. Ecco, e la stessa riflessione la facevo per questo commento, no? Perché in questa fase non mi sembra di aver dato fastidio a nessuno. Queste parole vengono dette e se ci pensate bene, insomma, ammazzati, è vecchio, inutile, sono parole pesanti. E allora vengono in una situazione in cui non hai attaccato nessuno, non hai fatto, o almeno credi, forse lo fai inconsapevolmente, no? Ritorniamo sulla consapevolezza. Ma, insomma, mi pare che la vita di questo vecchio nel web stia scorrendo abbastanza tranquilla per quello che riguarda i commentatori, insomma. No, cioè, uno va per la sua strada, racconta, legge quello che sente più di condividere, lo fa senza sostenere delle idee di parte, cerca di evitare anche la politica, cioè tutte quelle cose che possono essere in qualche modo divisive, che possono creare degli scontri, cerca di evitare di fare delle affermazioni apodittiche sulla scienza o che so io. Cioè, cerca di prendere in considerazione tanti punti di vista diversi, di raccoglierli tutti e di metterli insieme, in modo tale che ci si possa fare un'idea, si possa avere una visione diversa dello stesso oggetto, che può essere la cosa di cui si parla. E nonostante questo si accorde che succedono determinati fatti, cioè che si dà fastidio a qualcuno. Ma poi è veramente un fastidio? Cioè, veramente queste cose succedono perché si è pestato i piedi a qualcuno? Se fosse così è bene, no? Perché sapere che si ha un amico o sapere che si è pestato i piedi a qualcuno è una cosa positiva, insomma, no? Diventa uno... Si può installare anche uno scontro che a volte può essere anche... Può avere anche degli effetti positivi, insomma, no? Una polemica, insomma. Mi è capitato di fare delle polemiche nel web, parlo di anni fa, ma allora in qualche modo, diciamo, c'è stata anche una responsabilità mia perché ho attaccato qualcosa che qualcuno aveva scritto, insomma, io avevo detto che il suo scritto non aveva alcun valore. Beh, insomma, c'è stata una polemica che è durata anche un po' di tempo. Dopodiché questa polemica si è ricomposta, ci siamo riconciliati. Polemica va bene, no? Perché uno sa qual è l'antagonista che ha di fronte, no? Come dire? Di fronte a certi insulti che arrivano così all'improvviso e vengono fatti da qualcuno che non ha faccia. Si rimane perplessi. Vorrei chiarire che non sono cose che offendono perché si sa che non c'è sostanza sotto, che sono cose infantili, però sono delle cose che fanno pensare, secondo me, come tutto, e quindi danno un pretesto per pensare. Allora mi chiedevo, no? Ma quale può essere il clima che sta sotto questa cosa? Che qualcuno prenda la tastiera del computer e scriva a uno che sta qui, che sta facendo le sue cose, che possono piacere o non piacere, ma sono rivolte a un pubblico che in genere è quello che lo segue, non vuole andare oltre, non vuole fare chissà cosa, fa le sue cose, le propone. Ad alcuni piacciono, ad altri no. Quelli che non gradiscono vanno da un'altra parte. Uno penserebbe così, no? Quelli che gradiscono raccolgono quello che viene offerto. No. C'è qualcuno che anche in questo contesto lancia il suo sasso. E allora perché lo fa? Lo lancia anonimamente, insomma, no? È chiaro che lo lancia senza avere il coraggio di farsi vedere in faccia, no? Lo fa da un canale fake, insomma. Si capisce chiaramente che è un canale fake. L'idea che mi son fatto è questa. È sempre partendo da un'esperienza personale, no? Quando si era piccoli, si vedevano gli altri ragazzini con una fionda. E anche noi ci costruivamo una fionda. Ci andavano a comprare gli elastici quadrati, non so se vi ricordate. Si andava in un altro negozio che non c'è più, un negozio che vendeva cuoio, che vendeva cose di cuoio per i calzolai. E si andava a comprare quel pezzettino di cuoio che serviva per poi raccogliere il sasso che si metteva nella fionda, no? E poi, in presa più arva, si andava tra cespugli a cercare la forcella, quella che poi doveva essere di legno, no? e che doveva avere le due braccia della vie uguali, perfette. E lì era difficile trovare una bella vie che servisse per fare la fionda, insomma, no? Di legno. Non c'erano loro le fionde elaborate. Insomma, le fionde più belle erano quelle fatte così, insomma, no? Con la forcella si trovava. Bisognava cercarla per trovarla una fatta bene che si prestasse per essere fatta a fionda. La si scorticava, insomma, la si lavorava ben bene. Poi vi si applicavano con dei piccoli elastici, questi elastici quadrati che si trovavano una volta dal tabacchino. E poi a questi elastici quadrati si applicava questo, non so come si chiama, insomma, no? Ma questo pezzo di cuoio che serviva per contenere il sasso e a un certo punto la fionda era fatta, insomma. La fionda era un'arma, insomma, no? A modo suo, ma era un'arma. Infatti era usata anche in guerra, non questa, ma, insomma, fin dall'epoca dei popoli romani, insomma, degli antichi romani o anche prima, insomma, era usata la fionda, i frombolieri, no? In guerra. Una volta che si aveva quest'arma, che ci eravamo costruiti, le munizioni erano facili, bisognava trovare qualcuno a cui rivolgere quest'arma, perché altrimenti l'arma era inutile. Avevamo fatto un giocato allo che non serviva a chi rivolgerci. Il bersaglio, che era più facile pensare, che era più facile trovare, ma che in un certo senso ti metteva alla prova, erano le lucertole. So che si andava in cerca delle lucertole, le quali io trovavi nei sassi, al sole, no? Queste lucertole sono animali timidi, che appena ti vedono, poi, se ne vanno dentro il buco sul muro, sono lì, pazienti, che prendono il sole. Poi sono anche utili, no? Perché si mangiano gli insetti, tutte queste cose qua. Queste lucertole diventavano il bersaglio di chi aveva la fionda. Per fortuna io non ero molto destro nel tirare con la fionda, quindi non mi pare di averne ammazzate, di lucertole, insomma. Ma una volta che avevi l'arma, cercavi questo bersaglio, in queste lucertole, che era abbastanza piccolo, insomma, se riuscivi a colpire queste lucertole, eri bravo, e tiravi alla lucertola. Chissà cosa avrebbe pensato la lucertola, che, poverina, non faceva niente, era un animale innocuo, se avesse avuto, diciamo, una mente da dire ma perché questo qua se la prende con me, no? Per giocare con la sua fionda ha bisogno di ammazzare me. E la stessa cosa, per esempio, da piccolo era era quando, non so, a me avevano regalato un flober a un certo punto. Era un flober particolare che tirava pallini di gomma, ma poi a un certo punto avevo trovato anche un flober che tirava pallini di ferro. No. Allora, quando avevi questo flober, avevi visto qualche cacciatore, no? Allora ti sentivi anche tu, cacciatore. E a chi potevi poter provare a tirare quando avevi quest'arma in mano che imitava quella degli adulti, insomma, quando tirava pallini di ferro, insomma, in qualche modo potenzialmente era anche un po' pericolosa. Allora potevi, cercavi di tirare a cosa? Ai passeri che vedevi che erano gli uccellini più innocui ma che vedevi più facilmente nei rami dell'albero magari davanti davanti a casa quando andavo dai miei zii in campagna, per esempio, no? Dove avevo poi trovato questo flober. E tiravi a questi passeri. Per fortuna, insomma, non era facile colpire un passero, soprattutto da da un po' distante e quindi non ne ho mai ammazzati. Però cosa stava sotto? Che tu avevi un'arma e quest'arma avevi bisogno di provare ad usarla, insomma, no? Ti sentivi potente se tu usavi l'arma e riuscivi a ottenere un risultato, insomma, quindi ammazzavi un potenziale avversario. Forse poteva non essere neanche un avversario, era, nel caso dell'animale, era il sostituto dell'animale che si cazza, insomma, no? Quindi, diciamo, la cosa può essere anche giustificata, tra virgolette, se tu vai a cazza e ammazzo un animale che poi ti serve per mangiare, per vivere, no? Come facevano i nostri agli, insomma, no? Noi siamo dei cacciatori originariamente, poi diventati agricoltori, insomma, no? Quindi, come succede per gli animali, no? Che vanno a cazza per mangiare. Ma la cazza per gioco, così, semplicemente perché hai l'arma, era una cosa discutibile, diciamo così, ma che rientra nella psicologia infantile, no? Ci imita l'adulto, si ha il giocattolo arma e lo si vuole usare, si va in cerca del bersaglio da colpire e il bersaglio magari potrebbe essere anche qualcosa di vivo che non ti ha fatto niente. Il parallelo è quello con il fatto che anche la rete può essere usata come arma, un'arma che ci fa sentire potenti, no? Perché possiamo colpire a distanza senza essere visti e quindi senza qualcosa di fondamentale che c'è quando agiamo che è la responsabilità delle nostre azioni, no? Il bambino è responsabilizzato per conto suo, è piccolo e quindi non ha ancora, si riceve una volta l'uso della ragione. adesso insomma de-responsabilizzarsi vuol dire mettersi una maschera, creare un canale fake, qualcosa in cui non ti vedono, diciamo, hai la presunzione di non essere visto, di non essere, inventarsi un nome di comodo e da lì colpire, colpire un avversario che magari non ti ha fatto niente, insomma, no? Semplicemente perché questo ti fa sentire potente, perché tu hai un'arma a disposizione che ancora non sai quanto possa essere potente, quanto possa fare del bene e del male, con quest'arma devi cercare un avversario, ma anche lì, no? Dicevano gli antichi, tanti nemici, tanto onore, insomma, no? Più, diciamo, più forte il nemico o l'avversario che ti cerchi in un mare di possibili avversario, insomma, tanto più è il prestigio che tu hai quando ti senti di colpirlo, c'è questa sensazione di potenza che ti dà, no? Nel momento in cui tu puoi comunicare direttamente con chiunque, cioè tu attraverso quest'arma che è la rete tu puoi metterti in contatto con con qualsiasi persona, quindi puoi cercare anche l'innemico che ti sembra più forte, quello che ha più fama, più prestigio, e lo puoi colpire direttamente, quindi questo ti fa sentire alla pari di lui, no? Aumenta il tuo senso di potenza. Secondo me questo può essere, ma non dico che sia l'unico, insomma, ma può essere il motivo per cui si va a colpire, no? Per cui esistono queste figure. Mi ritorna la mente in queste cose è quello che con un'altra arma degli sconsiderati quando hanno buttato i sassi dal cavalcavia, no? E quando qualcuno è morto per questo gioco infame, ma siamo a livelli diversi, qui non muore nessuno, però, insomma, però quello che ci sta dietro secondo me l'intenzione che guida le cose è quello di andare a colpire, la sensazione che il web può essere anche un'arma e forse non è solo una sensazione, è anche un'arma, è anche un'arma e come tutte le armi possono fare molto bene ma anche molto male. Veniamo, ritorniamo, insomma, alla considerazione dell'utilità o dell'inutilità. L'inutilità che viene dalla vecchiaia, questo era un po' diventare inutili quando si diventa vecchi è una condizione molto più dell'uomo di adesso, dove siamo valutati soltanto per quanto produciamo che abbia un riscontro economico, tutto il resto non conta o conta molto di meno. Pensare all'utilità come una forma di utilitarismo, tu sei utile finché produci un reddito, finché guadagni, finché mantieni i figli forse, finché attraverso quanto acquisisci tu dai l'idea di potenza, insomma, no? Quando fai intuire all'altro come fanno i ricchi, no? Le macchine, il conto in banca, eccetera, eccetera, no? Tu fai intuire agli altri che gli altri potrebbero ottenere qualcosa da te, raccomandazioni per esempio, no? Ecco, quando hai a disposizione un mondo, un'immagine tale, per cui da te gli altri potrebbero avere, no? Potrebbero chiederti e avere. Allora sei utile. Non era così una volta. Quando il vecchio era considerato, cioè quando il vecchio era il saggio, quando il vecchio aveva fatto delle esperienze e poteva, la sua esperienza era un patrimonio comune per tutta la famiglia, no? Ma adesso in un mondo che cambia così rapidamente, le esperienze del vecchio non servono più a capire il presente e quindi il vecchio è emarginato, no? Non serve, è inutile, al di là di tutto quello che che ha fatto, che è stato nella sua vita. Perché? Perché anche la vita non si svolge più così pianamente come una volta. Le cose intorno a lui cambiano, cambiano così rapidamente che quello che oggi sai non è più valido per capire quello che c'era ieri. Insomma, la tua bella cultura solida e svettante come una cattedrale non serve più a niente, non serve a quelli che stanno con te o a quelli che vengono dopo di te, i quali hanno tutt'altra cultura, hanno tutt'altro modo di muoversi nell'ambiente che li circonda rispetto a quello che era il tuo, no? Quindi, da questo punto di vista non non servi. E allora dove può stare, dove sono le radici, cioè dove rimangono le radici dell'essere utile insomma per per l'uomo, per l'umanità secondo me per capirlo bisogna andare un po' per esempio al piccolo principe, no? Quando comincia ad avere più senso la vita del piccolo principe, no? Che viene in conflitto con quella rosa che aveva quattro spine nel suo pianetino, no? E in seguito a questo conflitto decide di andarsene e fa un viaggio percorrendo vari altri pianeti fino ad arrivare alla Terra, no? E in questi pianeti scopre poi quali sono le debolezze dell'uomo, no? Scopre il vanitoso, scopre il geografo, scopre il re, scopre tutte queste figure che sono soltanto piene di sé, no? E sono infelici. scopre l'ubriaco, scopre il lampionaio, insomma, scopre tutta una serie di personaggi infelici perché pensano fondamentalmente soltanto a sé, no? Ma quando arriva alla Terra scopre, diciamo, incontra la volpe, no? Come tutti sapete e questa volpe lo fa riflettere su cosa sia l'amicizia, no? Su cosa sia la domesticare, quindi su cosa sia prendere coscienza dell'altro, prendere confidenza con l'altro e il fatto che l'altro diventi necessario alla propria vita e una volta che l'altro diventa necessario alla propria vita la capacità di prendersi cura dell'altro, prendersi cura, no? E uno degli elementi del senso profondo che si può dare alla propria vita, no? E' quello di saper prendersi cura dell'altro, cioè di non vivere soltanto per se stessi, quindi di entrare in comunicazione con l'altro, perché nel momento in cui si riesce ad entrare in comunicazione con l'altro si riesce anche a conoscerlo e ad amarlo in qualche modo, no? Infatti il principe dopo che ha fatto questa esperienza capisce che aveva abbandonato la sua rosa, no? Sacrifica la sua vita, no? si fa ammazzare dal serpente, si fa avvelenare in modo tale da morire sulla terra per poi poter ritornare al suo pianetino e prendersi cura della rosa, no? Ma il suo viaggio sulla terra non sarà stato inutile perché avrà conosciuto l'aviatore, anche l'aviatore nel frattempo si è preso cura e si è affezionato al piccolo principe e il loro distacco non sarà senza dolore, come dire, ma il passaggio del piccolo principe non sarà stato inutile neanche per l'aviatore perché da quel momento quando l'aviatore guarderà il cielo avrà un'altra visione il cielo in una di quei miliardi di stelle ci sarà il piccolo principe e quindi lo potrà in qualche modo ritrovare il cielo quindi per l'aviatore cambierà modo di essere percepito qui poi sta l'utilità si è utile quando questo succede quando il proprio passaggio lascia o può lasciare una traccia che però non è una traccia economica non può essere una traccia di quanto uno ha in termini di denaro in termini di beni materiali da un'altra persona c'è stato qualcosa un'eredità che lasci quando proprio perché diventi vecchio poi sei prossimo alla morte insomma quando muori sei in grado di lasciare un'eredità e in cosa consiste l'eredità che tu lasci perché diventare vecchio è anche questo no è avvicinarsi alla morte e avere la responsabilità di lasciare dietro di te qualcosa un'eredità e questo qualcosa lo hai costruito durante la vita non ci sono stati altri momenti in cui l'hai potuto fare quindi quando riguarda la tua vita chiederti insomma no sono stato utile perché ho lasciato un'eredità di affetti ho cambiato in qualche modo anche di poco la vita di qualche altro c'è qualcuno che che potrà rimpiangerti sinceramente che potrà sentire ancora un affetto per te insomma no quindi l'eredità sta negli affetti allora vediamo di di aiutarci anche a capire questo con due passi della letteratura uno lo trarrei dalle ultime lune no la moglie dice il vecchio che sta per andare in casa di riposo no il vecchio era un professore che a un certo punto rinuncia anche alla sua camera in casa con il figlio perché questi ragazzini hanno bisogno di avere ognuno una camera e quella che occupa lui insomma deve essere lasciata all'ipote quindi lui se ne va in casa di riposo no e prima di andare in casa di riposo dialoga con con la moglie morta e la gli dice sei vecchio debole impaurito ti serve tutto ma tu a chiedere ti vergogni ne andrebbe di mezzo il tuo orgoglio e tu vuoi essere amato solo perché esisti come fosse un tuo diritto naturale ma questo poteva forse funzionare quando eri giovane adesso hai perduto tutto il tuo fascino non interessi più a nessuno lo hai detto tu dunque è arrivato il momento di essere umili e chiedere non ti verrà più dato niente se non lo chiedi devi dire ho paura mi sento solo per favore aiutatemi devi dire sono debole e vecchio ho bisogno del vostro affetto così devi dire questo devi chiedere agli altri e lui risponde ma io non voglio l'elemosina di quattro parole gentili non voglio smorfie di incoraggiamento io devo morire è una cosa seria lasciatemi in pace quando invecchi entri in una dimensione diversa come in un sogno come in un altro pianeta ci si può anche vivere decentemente sì ma la felicità non è prevista la felicità è tutta nel passato e tu puoi solo cercare di ricordarla e tu puoi solo cercare di ricordarla e questo alle volte ti fa bene e alle volte male quando ti fa bene è una specie di tepore una sensazione di dolcezza ma niente di più e in genere dura poco quando ti fa male invece è come un ergastolano svegliarsi da un bel sogno è quell'attimo in cui probabilmente è ancora confuso ancora dentro il sogno e si sente inondato da un grande sorriso sereno ma subito la realtà la galera vita lo colpisce come un pugno e lo fa star peggio del solito ecco la vecchiaia è come quella galera sai che ci resterai chiuso fino alla morte e poi solo fantasticare ma non fare progetti perché non hai futuro dicono che a sognare sono i giovani ma non è vero quelli dei giovani non sono sogni ma progetti speranze sono tutte possibili tutte realizzabili perché esiste un futuro e non c'è nulla che non possa accadere solo i vecchi immaginano cose che non accadranno mai pensano un futuro che non ci sarà e ricordano un passato che non può tornare i veri sognatori sono loro con quelle teste tremolanti pieni di episodi consumati di parole dette di faccia morte sono loro gli unici capace di pensare l'inesistente e continuano a intrepidi affilare desideri fantasie nella più brutale consapevolezza che non si realizzeranno mai questo brano poi finisce dicendo però queste file finirà in casa di riposo insomma e lì si accorderà che i suoi compagni soffrono muoiono e dirà ognuno di noi detesta l'altro ma lo compatisce disprezza la sua debolezza ma rispetta il suo dolore e quando questo diventa così forte da farlo urlare è pronto a correre in aiuto trascinando le sue ciabatte e agitando in aria le mani tremolanti siamo tutti quanti matti egoisti migliosi ma siamo finiti qui dentro senza altra colpa che non sia quella di aver vissuto e qui dentro come entrincea si ha paura e si muore solo che a noi nessuno darà mai una medaglia né ci ringrazierà per la nostra sofferenza è giusto così in fondo perché noi non sacrifichiamo niente né la nostra gioventù né il nostro futuro però queste ville appartamenti ospedali con il loro linoleum la luce grigia l'odore di minestra di medicinali di merda insomma tutti questi luoghi un po' indecenti dove i vecchi aspettano la morte dovrebbero essere sacri anche i vecchi dovrebbero essere sacri perché il sacro è terribile è il momento in cui un uomo cessa di vivere ecco sacro quel vecchio morto tre settimane fa durante il sonno è sacro il suo presentimento che gli aveva fatto indossare per la prima volta il pigiama nuovo ricevuto in dono dalla figlia per il suo compleanno è sacro il vecchio morto domenica scorsa dentro il cesso seduto sul cesso dicono che si sia trattato di infarto che gli sia stata fatale la sua stitichezza lo sforzo eccessivo per riuscire a despellere quel maledetto pezzo di pietra che lo faceva soffrire ogni giorno e se così fosse sacro anche quello ma io penso che forse è morto di crepacuore perché nel piccolo cesso i fantasmi si affollano ti stanno troppo vicini troppo addosso e insieme a loro si affollano i pensieri i ricordi tutti impicciati con te tutti a tormentarti nel cesso mentre tu aspetti che quella pietra ti abbandoni e allora può arrivare una mattina in cui non riesci più a sopportarlo in cui la pietra e i ricordi sono più forti di te e dunque è sacra quella mattina è sacro anche quel vecchio scorbutico e solitario che un giorno non si alzerà più dalla sua sedia e troveranno con gli occhi chiusi le mani rigide sulle ginocchia mentre la sua cuffia gli canterà ancora sulle orecchie un corale di Bach e vorrei finire questo video con una delle pagine più belle che ritengo che Rotta abbia scritto da Patrimonio Patrimonio è un libro che avevo postato e che ho dovuto togliere in cui è descritto il rapporto di lui lo scrittore insomma con il padre che a 86 anni si accorge di avere un tumore in testa insomma un tumore benigno ma così grande che sarà difficile toglierlo in un rinoma dell'acustico che prende la rocca petrosa del temporale e quindi gli dà una paralisi del facciale quindi questo padre diventa anche sfigurato in viso con tutta una mezza faccia floscia pendente non riesce più neanche a mangiare perché si sbrodola mangia con difficoltà eccetera e c'è il rapporto tra padre e figlio la presa la presa di coscienza di quello che il figlio poi deve al padre insomma è tutto quello che fa il figlio per cercare di alleggerire la gli ultimi l'ultimo periodo di vita del padre che era assegnato a morire ormai cioè a cui spetta poco tempo di vita e quindi a questo padre che decade in maniera importante rapidamente vediamo di leggere qualcosa di questo passo perché è una pagina bellissima è una di quelle pagine che che rendono grandi da sole lo scrittore che le scrive no? era la terza volta che si alzava da tavola durante il pasto e io mi alzai con lui per aiutarlo ad andare di sopra però lui non voleva essere aiutato e siccome immaginavo che si stesse allontanando per tentare ancora una volta di andare di corpo non volevo metterlo in imbarazzo con le mie insistenze stavamo bevendo il caffè quando mi accorsi che non era ancora tornato lasciai silenziosamente la tavola e mentre gli altri continuavano a chiacchierare scivolai in casa sicuro che fosse morto non era morto anche se forse avrebbe voluto esserlo sentì il puzzo di merda a metà della scala che portava al primo piano quando raggiunse il suo bagno la porta era socchiusa e sul pavimento del corridoio esterno c'erano i calzoni e le mutande dentro la porta del bagno c'era mio padre completamente nudo appena uscito dalla doccia e gocciolante l'odore era fortissimo quando mi vide per un pelo non scoppiò in lacrime con una voce desolata che non avevo mai sentito né da lui né da chiunque altro mi disse ciò che non era stato difficile immaginare mi sono smerdato addosso disse la merda era dappertutto spalmata sul tappetino del bagno e incrostata sull'orlo del water e ai piedi del water in un mucchio sul pavimento era schizzata sul vetro della cabina della doccia da cui era appena emerso e la roba abbandonata sul pavimento del corridoio ne era insaccherata era sull'angolo dell'asciugamano con cui aveva cominciato ad asciugarsi e in questo bagno piuttosto piccolo che di solito usavo io mio padre aveva fatto del suo meglio per rimediare al pasticcio da solo ma essendo quasi cieco e appena uscito da un letto di ospedale nello svestirsi e nell'andare sotto la doccia era riuscito a spargere la merda su ogni cosa vedi che era persino finita sulle setole del mio spazzolino da denti appeso nel contenitore sopra il lavabo tutto bene dissi tutto bene sistemeremo tutto infilai una mano nella cabina per riaprire l'acqua e girai i rubinetti fino a portarla alla temperatura giusta togliendogli l'asciugamano lo aiutai a tornare sotto la doccia prendi il sapone e ricomincia da capo dissi e mentre lui tornava disciplinatamente a insaponarsi io ammucchiai la sua roba e gli asciugamani e il teppettino e andai in fondo al corridoio a prendere dall'armadio della biancheria una federa per metterceli dentro trovai anche un asciugamano fresco per lui poi lo aiutai a uscire dalla doccia e lo condussi nel corridoio dove il pavimento era ancora pulito e lo avvolsi nell'asciugamano e cominciai ad asciugarlo hai fatto uno sforzo erculeo dissi ma temo che non ci fosse una via d'uscita mi sono smerdato addosso ripete lui e questa volta si sciolse in lacrime lo portai in camera dove si sedette sulla sponda del letto e continuò ad asciugarsi mentre io andavo a prendere uno dei miei accappatoi di spugna quando fu asciutto lo aiutai a infilarsi l'accappatoio e poi tirai giù il lenzuolo e gli dissi di mettersi a letto e fare un sonnellino non dirlo ai bambini sopplicò guardandomi dal letto con l'occhio buono non lo dirò a nessuno risposi dirò che sei andato a riposare non dirlo a Claire a nessuno dissi non temere sarebbe potuto capitare a tutti non pensarci più e fate una bella dormita abbassai le taparelle per oscurare la stanza e mi chiusi la porta alle spalle il bagno sembrava un posto dove un ladro particolarmente malevole avesse lasciato il suo biglietto da visita dopo aver svaliggiato la casa sistemato mio padre e questa era la cosa che contava avrei preferito inchiodare la porta e dimenticare quel bagno per sempre è come quando scrivo un libro pensai non so da dove cominciare invece attraversai cautamente il pavimento alzai la mano e spalancai la finestra che era la prima cosa da fare poi scesi in cucina per la scala posteriore e senza farmi vedere da Seth Ruth e Claire che stavano ancora conversando nella sala estiva prese un secchio una spazzola e una scatola di spicca e span per l'armadietto sotto l'acquaio e due rotoli di asciugamani di carta e tornai di sopra in bagno dove la sua merda giaceva davanti alla tazza del water in quella che era più o meno una massa compatta fu molto facile sbarazzarsene bastava raccoglierla e tirare lo sciacquone e la porta della doccia e davanzare della finestra e il lavabo e il porta sapone gli interruttori della luce e porta asciugamani non furono un problema asciugamani di carta e sapone in quantità ma dove era entrata nelle fessure sottili e irregolari del pavimento tra le larghe e vecchie assi del castagno lì sì che c'era pane per i miei denti la spazzola sembrava solo peggiorare le cose e alla fine presi il mio spazzolino da denti e tuffandolo ripetutamente nel secchio di acqua calda saponata procedetti centimetro per centimetro da una parete all'altra una fessura per volta finché il pavimento fu tanto pulito quanto riuscì a farlo diventare dopo una quindicina di minuti ginocchioni decisi che alle particelle che si erano talmente incassate tra le assi da impedirmi di raggiungerle avremmo dovuto semplicemente rassegnarci tolsi la tendina dalla finestra anche se pareva pulita e la ficcai nella federa con il resto della roba sporca poi andai nel bagno di Claire a prendere un po' d'acqua di colonia che spruzzai generosamente nella stanza strofinata e ripulita aspergendola con le dita come acqua santa piazzai un piccolo ventilatore in un angolo e lo accesi e tornai nel bagno di Claire a lavarmi le braccia le mani e il viso avevo un po' di merda nei capelli perciò lavai anche quelli in punta di piedi tornai nella camera da letto dove il mio padre dormiva sempre respirando sempre vivo sempre con me un altro scacco al quale era sopravvissuto quest'uomo che da tempo immemorabile conoscevo come padre ero terribilmente dispiaciuto per la lotta eroica e sfortunata che aveva dovuto sostenere per ripulirsi prima che io lo raggiungessi nel bagno e per la vergogna che aveva dovuto provare il disonore di cui sentiva il peso eppure ora che la cosa era finita e lui era immerso nel sonno pensai che non avrei potuto chiedere niente di più per me stesso prima della sua morte anche questo era giusto ed era come doveva essere si pulisce la merda del proprio padre perché deve essere pulita ma dopo averlo fatto tutto quello che resta da sentire lo senti come mai prima di allora e non era la prima volta che lo capivo una volta sfuggito al disgusto e ignorata la nausea e dominate quelle fobie che hanno acquistato la forza di un tabù c'è ancora tantissima vita da accogliere dentro di sé anche se una volta è sufficiente soggiunsi parlando idealmente al cervello addormentato stretto nell'espire di quel tumore cartilaginoso se dovessi farlo tutti i giorni forse finirei per non sentirmi tanto entusiasta portai giù la federa puzzolente e la misi in un sacco nero della spazzatura che legai forte e portai il sacco alla macchina e lo buttai nel bagagliaio per darlo in lavanderia e perché questo era giusto e come doveva essere non avrebbe potuto essermi più chiaro ora che il lavoro era finito questo dunque era il mio patrimonio e non perché pulire fosse il simbolo di qualche altra cosa ma proprio perché non lo era perché non era altro né più né meno della realtà vissuta che era ecco il mio patrimonio non il denaro non i tefillin non la tazza per farsi la barba ma la merda la sera dopo lo aiutai a fare il bagno quella mattina facendogli il letto avevo trovato di nuovo delle macchie di sangue sui calzoni del pigiama e sullo strato di asciugamani che coprivano il lenzuolo e quando gli avevo chiesto la ragione di tutto quel sangue mi aveva detto che era quello che capitava quando non faceva un semicupo prima di andare a dormire ma sei tutto qui puoi andare a lavarti nel bagno grande e dissi avresti dovuto dirmelo non devi fare la doccia ho bisogno dei sali Epsom andai al drugstore del paese più vicino a prendere una scatola di sali Epsom e quella sera gli preparai il bagno e ne misi un pugno nell'acqua mi sedetti sul borto della vasca mentre l'acqua scorreva misurando la temperatura con le dita mia madre ricordai la misurava con il gomito lui aspettava seduto sul coperchio abbassato del water avvolto nel mio accappatoio di spugna rosso quando la vasca fu piena misi il tappettino gommato della doccia sul fondo della vasca per evitargli una caduta mentre entrava ed usciva poi gli diedi il braccio ma lui non mi permise di aiutarlo nemmeno quando insistetti invece mi ordinò di scansarmi e ginocchiandosi e ruotando su se stesso riuscì a mettere una gamba nell'acqua e poi l'altra e una volta dentro a girare lentamente sulle ginocchia fino a mettersi di fronte a me è una manovra complicata dissi la faccio da solo ogni sera beh io sto qui seduto casomai tu abbia bisogno di me ah come si sta bene disse lui buttandosi l'acqua sul petto con le mani prima debolmente poi più vigorosamente cominciò a flettere le ginocchia e io vedi i muscoli guizzare nei suoi polpacci sottili poi guardai il suo pene non credo di averlo più visto da quando era un bambino e allora pensavo che era molto grosso constatai che avevo avuto ragione era solido e tozzo e l'unica parte del corpo che non mi sembrava affatto vecchia sembrava in piena efficienza tutto sommato di circonferenza più grossa notai del mio buon per lui pensai se ha dato un po' di piacere a lui e a mia madre tanto meglio lo osservai intensamente come per la prima volta e continuai ad aspettare che nella testa mi si formassero altri pensieri non ne arrivarono più nessun altro pensiero tranne questo che dovevo fissarmelo nella memoria che dovevo fissarmelo nella memoria per quando fosse morto forse mi avrebbe impedito di sbiadire e diventare etereo col passare degli anni devo ricordare con precisione mi dissi ricordare ogni cosa con precisione in modo che quando se ne sarà andato io possa ricreare il padre che ha creato me non deve dimenticare nulla ora muoveva con forza le gambe su e giù un po' come un bambino che gioca nell'acqua ma non c'era niente della gioia di un bambino nell'espressione arcigna della metà della sua faccia che ancora funzionava sembrava fare proprio sul serio con questo bagno come se anch'esso ai pari di quasi ogni cosa ultimamente andasse affrontato con la massima determinazione mi lavai la schiena e mentre notavo come era diventato pallido il suo corpo disse solo una volta in tutta la mia vita mi era già successo capì la cosa alludeva e continuai a insaponarlo con la pezzuola come se a strofinarlo così potesse tornargli un po' del suo vigore fu dopo il mio trasferimento nel South Jersey disse avevo appena assunto la direzione del distretto di Maitershade avevo 40 uomini laggiù un grande ufficio 12 segretarie nel cuore della notte ricevetti una telefonata c'era qualcuno in ufficio qualcuno dissero aveva scassinato la porta ed era entrato nell'ufficio scesi dal letto e prima che potessi raggiungere il bagno capitò la stessa cosa deve essere stata la paura tieni dissi e gli porse il sapone e la pezzuola e mi sedetti sul coperchio abbassato del water mentre lui si lavava delicatamente il fondo schiena poi mettendosi le mani sul sedere allargò le natiche mi ha detto il dottore di fare così disse bene disse io è una buona idea fa pure con comodo nel 1956 quando aveva esattamente la mia età la Metropolitan Life aveva affidato a mio padre un ufficio di 40 agenti vice direttori e comuni rappresentanti oltre a uno staff di 12 segretarie era un capufficio che incitava il personale a lavorare senza risparmio di energie proprio come senza risparmiarsi lavorava lui e il trasferimento al distretto di Maple Shade era stata la sua terza promozione dal 48 quando l'avevano promosso da vice direttore a Newark con ogni promozione gli veniva attribuita la responsabilità di un ufficio più grande oltre alla possibilità di migliorare il suo reddito ma anche un ufficio più disorganizzato e con un giro d'affari inferiore a quello precedente che proprio lui aveva rimesso in piedi trasformandolo in uno dei più redditizi del territorio per lui la promozione era in genere anche una specie di retrocessione e la strada era sempre in salita mentre stavo là seduto a guardarlo e lui lasciava che l'acqua tiepida alleviasse il dolore delle ragadi che come mi aveva detto erano la causa delle perdite di sangue pensavo che la Metropolitan Life Insurance Company non avrebbe mai potuto riconoscere abbastanza l'affare che aveva fatto assumendo Herman Roth l'avevano ricompensato con una pensione abbastanza decorosa all'atto del suo collocamento a riposo 23 anni prima e durante la sua vita lavorativa aveva ricevuto numerose targhe pergamene e distintivi che attestavano le sue imprese dozzine di altri direttori dovevano evidentemente aver lavorato altrettanto duramente e con successo non minore ma dei mille direttori distrettuali della Metropolitan sparsi nel paese non ce ne poteva essere stato un altro che sentendosi dire nel cuore della notte che il suo ufficio era stato svaliggiato si fosse per usare le sue parole smerdato dalla paura per una fedeltà come questa la società avrebbe dovuto beatificarlo Herman Roth come la chiesa beatifica i martiri che soffrono per la sua causa e avevo io come figlio ricevuto una devozione meno primitiva e servile non sempre la devozione più illuminata per dir meglio una devozione dalla quale volevo districarmi già quando avevo 16 anni e cominciavo a sentirmene sfigurato ma una devozione che ora trovavo gratificante per controcambiare almeno in parte sedendo sul coperto del water a sorvegliarlo mentre lui scalciava con le gambe come un bebè nella guglia potresti dire che non significa molto per un figlio essere teneramente protettivo verso il proprio padre una volta che questi è senza forze e ridotto quasi all'unicino posso solo rispondere che mi sentivo altrettanto protettivo della sua vulnerabilità come padre di famiglia emotivo e vulnerabile alle frizioni familiari come sostegno della famiglia vulnerabile agli incerti finanziari come figlio incolto di immigrati ebrei vulnerabili ai pregiudizi sociali quando io ero ancora a casa e lui era forte e sano e mi faceva diventare matto con consigli che erano inutili e limitazioni che non avevano senso e ragionamenti che mi spingevano solo soletto nella mia stanza a spaccarmi la testa contro il muro e urlare per la disperazione era proprio questa la discrepanza che aveva fatto del ripudio della sua autorità un conflitto così opprimente così pieno di dolore e di scherno non era un padre qualunque era il padre con tutto ciò che c'è da odiare in un padre e tutto ciò che c'è da amare il giorno dopo quando Lil telefonò a Elizabeth per sapere come stava sentii che le diceva Philip è come una madre per me rimasi sorpreso credevo che avrebbe detto come un padre ma la sua descrizione era in realtà più sottile delle mie banali aspettative e al tempo stesso molto più flagrante impassibile e invidiabilmente spavaldamente schietta sì mi insegnava sempre qualcosa non le cose convenzionali che insegnano i padri americani non roba che riguardasse la scuola lo sport o il principe azzurro ma qualcosa di più grossolano di quanto si potesse coniugare col mio desiderio infantile e prevedibilmente vanaglorioso di avere un padre assennato e dignitoso da mettere al posto di quello di cui scoprivo di vergognarmi un po' e questo proprio quando la sua attaccabilità soprattutto come oggetto di discriminazione antisemita mi rendeva più solidale nei suoi confronti e inaspiriva il mio odio per i suoi detrattori mi ha insegnato il quotidiano era lui la lingua di ogni giorno prosaica ed espressiva e diretta con tutti i grossi limiti del quotidiano e tutta la sua forza duratura arrivederci grazie a tutti